e siamo alla pagina degli spettacoli della cultura itinerario didattico la riscoperta del pietra fesa pittore del 600 lucano con fondi piotto allestito sul modello di castella gopesole un percorso multimediale del quale ci parla rocco brancati museo virtuale nella rocca del duca di poggiardo a satriano di lucania è interamente dedicato a giovanni de gregorio uno dei più importanti pittori del 600 lucano conosciuto con l'appellativo pietra fesano perché nacque a pietra fesa l'antico toponimo di satriano giovanni de gregorio caratterizza il panorama della pittura secentesca in basilicata nel quadro è alla presenza di assai prolifici e in genere modesti pittori locali per essere stato allievo della bottega di fabrizio santa fede tra i grandi maestri della scuola napoletana pre caravageschi freschezza mirabile di colori e una qualità che incanta come scrisse il dei dominici il museo virtuale è stato intitolato il palco dei colori un percorso all'interno della rocca in fase di restauro e di recupero architettonico sulle tracce del pietra fesa con un chiaro intento didattico innovativi sistemi multimediali per consentire una conoscenza approfondita del personaggio che nell'area francescana tra basilicata e cilento ha lasciato preziose testimonianze della sua opera prenotazioni di tour guidati sono previsti a partire dal 17 agosto ieri sera la presentazione ufficiale dell'evento nella circostanza il sindaco michele miglionico ha ricordato il lungo percorso effettuato in questi ultimi anni alla riscoperta della vita e delle opere di giovanni de gregorio tra i personaggi illustri della comunità satrianese un'ultima annotazione in corso l'edizione 2012 delle antiche vie del pietra fesa questa sera a partire dalle 20 e 30 stand gastronomici proporranno ricette tipiche allestite anche mostre organizzate dal forum giovanile con la presenza di artisti provenienti anche dall'argentina e musica dal vivo lungo le passeggiate tra i murales e le gigantografie dedicate alle opere più celebri del pietra fesa sui muri del centro storico del paese grazie a tutti